Amici di Allo Canosa siamo su un campo da tennis, il campo da tennis di Canosa dell'associazione Amici del Tennis di Nicola Stringari e sono in compagnia di questo ragazzo, un ragazzo che conosciamo già da tempo, un innamorato del tennis chiaramente, un Francesco Sanson che ha partecipato a vari tornei riservati a Over 30 se non sbaglio? Da quest'anno sì, c'è un paio d'anni Over 30 però ne ho fatti anche altri in passato quando ero più giovincello Però ecco perché siamo qui? Perché stiamo intervistando Francesco, qualcuno ti chiama Franco, qualcuno Francesco io ti chiamo Ciccio Frank Dredd mi conoscono di più perché sono rosso È giusto dire queste chicche così magari ti conoscono in tanti Allora, Franco, siamo qui perché sei riuscito a portare a casa due titoli importanti, due vittorie importanti Due tornei importanti, uno a Spinazzola e uno a Cerignola sono stati tutti e due vinti da te Una bella coppia di vittorie che ha rinsaldato un pochettino il tuo umore se mai ce ne fosse bisogno Sì, in effetti arrivati un po' in maniera inaspettata perché comunque quest'anno per svariati impegni comunque non ho fatto tanto allenamento E quindi giocando saltuariamente quindi non ero convinto proprio della mia forma fisica Però sono venuti due bei risultati, il primo a Spinazzola, il secondo a Cerignola due settimane dopo Infatti rimettendo su un po' il mio morale a livello tennistico e agonistico alla fine Perché io so che tu sei un innamorato del tennis, giochi molto a tennis, ti ho visto anche in spiaggia giocare a tennis Insomma, ti piace moltissimo questa racchetta, ti piace moltissimo questo sport Ecco, ci spieghi un attimino questo circuito, si tratta di campionati riservati alle vostre categorie? Sì, praticamente sono dei tornei federali organizzati dalla FIT, quindi dalla Federazione Italiana Tennis Riservati comunque ai tesserati, quindi agonisti, dove ci sono varie categorie La più alta finora è la seconda categoria, poi c'è la terza di cui ora ne sono entrato a far parte E il quarta categoria E diciamo che questi due tornei, dove comunque ho vinto, sono di quarta categoria Perché comunque quest'anno potevo partecipare dal quarta in poi Perché è entrato quest'anno? Sì, perché comunque poi magari c'è anche la retrocessione anche nel tennis Se non apporti risultati positivi, come è giusto, c'è la retrocessione È un circuito di tornei, insomma, adesso per esempio ce ne sarà qualcun altro a breve? Sì, il prossimo e credo forse l'ultimo della stagione sarà qui ad Andria Quindi il circolo qui vicino, però non credo di esserci perché comunque Impegni di lavoro Impegni di lavoro, sì, sì Ok, allora rimani qui perché la tua associazione è la Tennis Court di Canosa Ho anche Nicola Stringari che vorrei venire un attimo qui Ecco, ti puoi avvicinare Vorrei chiudere con lui questa intervista Intanto io ti ringrazio per averci ospitato qui sul campo da tennis Vicino al tuo campo da tennis, la tua associazione Ecco, mentre con Frank parlavamo di questa associazione Di questa società agonistica, partecipa a dei tornei La Tennis Court di Canosa Tu invece amici del tennis Amici del tennis, Nicola, tu sei vicino ai più piccoli Tu insegni proprio a giocare a tennis Sì, praticamente io sono un istruttore Sono anche un coach internazionale Però i titoli diciamo sono relativi Perché comunque per insegnare a tennis ci vuole esperienza Cioè io... E pazienza Soprattutto pazienza con i bambini Diciamo che con 30 anni di esperienza posso dire che I titoli potevano anche diciamo Lasciarli a casa Potevo farne a meno diciamo Però insomma sul campo ci sei da tanti anni Sì, sono tanti anni Penso di essere un appassionato di tennis prima di tutto E mi sono dedicato subito all'insegnamento Non sono stato un campione diciamo nel passato Anche perché ho iniziato tardi a giocare a tennis Ma non serve essere campione, Nicola E mi è sempre piaciuto insegnare, trasferire quello che io so fare soprattutto Ed è importante perché non è... cioè nel fare questo mestiere significa non solo essere bravi Ma saper trasferire, trasferire diciamo il proprio sapere ai ragazzi e la cosa non è facile Soprattutto Nicola consentimi far divertire prima i ragazzi e poi farli giocare Farli appassionare perché comunque una volta che arrivano qui nel nostro circolo la cosa difficile è farli rimanere E quindi bisogna saperci fare, bisogna saper creare diciamo un po' di... diciamo appassionarli E diciamo il successo, il mio successo è quando praticamente qualcuno non solo rimane ma poi dopo diventa anche bravino Come è il caso di Francesco Cioè parecchino avuti come Francesco E diciamo le soddisfazioni sono proprio quelle Ascolta ti do la possibilità, visto che siamo qui nel circolo tennis Di ricordare ai tanti genitori che ci stanno guardando Se hanno voglia di mandare qualche bambino, i loro bambini qui al circolo tennis Ecco come devono fare? Diciamo che sarebbe semplice dal punto di vista diciamo Basta farli avvicinare qui e io cerco di accontentare un po' tutti Il problema è le limitazioni, cioè abbiamo solamente un campo E cerco di accontentare un po' a tutti Ma non è perché non solo io faccio scuola tennis Ma qua questa è un'associazione, praticamente ci sono dei soci Ho capito Come adesso in questo caso stanno giocando a tennis Innamorati del tennis Sì Oggi casualmente è una giornata che non faccio lezioni Il mercoledì viene destinata alle prenotazioni Mercoledì, sabato e domenica Gli altri giorni cerchiamo di accontentare i ragazzi Ma non solo i ragazzi, anche quelli più grandi Che vogliono imparare a giocare a tennis E questa associazione è una associazione che si occupa della scuola tennis Mentre l'altra associazione che praticamente gioca anche qui L'altra associazione che si chiama Tennis Court È un'associazione agonistica Che praticamente si occupa delle competizioni agonistiche Perfetto Come quella che ha visto partecipe il nostro Frank Infatti volevo dire che quest'anno noi abbiamo avuto il piacere di fare tre campionati maschili Due campionati di D2 Sì, due maschili di D2 Una di tre, una serie inferiore E per la prima volta abbiamo fatto anche la D1 femminile 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 con dei buoni risultati Bene, bene, bene Queste sono tante notizie sempre di sport Come vedete siamo sempre molto vicini a tutte le associazioni Anche questa Mischi del tennis con Nicola Stingari Ma anche la tennis Court Canosa Siamo qui per festeggiare Insieme a tutti quanti quelli che ci stanno guardando Queste due belle vittorie di Frank Del nostro Frank Sansonna Io ti chiamo così Così ti conoscono tutti Io auguro a te tanto buon lavoro Nicola Chiaramente grazie ancora per averci ospitato qui nella tua associazione E Frank, insomma noi ci vediamo alla prossima vittoria Alla prossima vittoria, sì Speriamo che arrivi presto Eh? Sì, ne arriveranno altre Ne arriveranno altre Sì, sì, sì Sono fiducioso Sì, fiducioso Noi vogliamo portarti tanta fortuna Questo è anche tennis Perché a Canosa c'è anche tanto tennis E questi sono due rappresentanti molto importanti di questo sport Qui a Canosa di Puglia Ma con questo è tutto La nostra rete dello sport è sempre vicina a tutte le associazioni Ve lo ricordo sempre Naturalmente rimanete sempre sintonizzati Perché ci sono ancora tante sorprese Sempre questa sera Sempre su I Love Canosa Un saluto a tutti e buona serata Grazie Nicola Arrivederci Ciao Pino, grazie Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille